Io sono stata cooptata da Manuel Agnelli a fare X Factor perché mi ha detto troverai un ragazzo straordinario, Damiano, questo ragazzo giovanissimo che era l'unico, mi garantisco che lui pensava prima alle lezioni con me e poi al trucco, al parrucco eccetera, era veramente incredibile già nel percorso di X Factor aveva completamente cambiato la vocalità quindi proprio un soldato vero e proprio e poi siamo arrivati a fare bene a X Factor e poi abbiamo avuto i nostri momenti e poi ci siamo ritrovati insieme a Sanremo che è stato per me un periodo incredibile anche perché poi c'era stato se vi ricordate Irama si era ammalato, no qualcuno del suo entourage e quindi abbiamo dovuto io e la Elenia concentrarci solo su una formazione e io veramente per me è stato molto difficile scegliere puntiamo su un gruppo, puntiamo sui nostri piccoli che hanno bisogno del nostro sostegno non pensando mai alla vittoria e invece è incredibile, siamo riusciti a fare questo e poi la cosa meravigliosa è anche l'Eurovision è stata una bella botta per me la mia prima vittoria è l'Eurovision sì, sì sì andiamo a tutti Grazie.